E' in corso dall'alba di oggi una maxi operazione dei carabinieri di Trapani che hanno eseguito 13 arresti nel feudo del boss latitante Matteo Messina Denaro, la primula rossa di Cosa Nostra. In carcere è finito anche Francesco Domingo, ritenuto dagli inquirenti il boss di Castellarmare del Golfo e secondo i magistrati vicino a Messina Denaro. Domingo ha già subito diverse condanne anche per associazione mafiosa e secondo quanto emerge dall'indagine dopo ogni scarcerazione sarebbe tornato a guidare il mandamento mafioso di Castellarmare del Golfo. L'inchiesta è coordinata dalla DDA di Palermo. Nell'ambito dell'operazione risulta indagato anche il sindaco di Castellarmare Nicola Rizzo, eletto nel 2018 con una lista civica di centrodestra. All'alba sono stati perquisiti il suo ufficio e la sua abitazione. Le accuse a carico dei 13 arrestati vanno dall'associazione di tipo mafioso, estorsione, furto, favoreggiamento, violazione della sorveglianza speciale e altro. Tutti reati aggravati dal metodo mafioso. Nell'ordinanza era inclusa una quattordicesima persona che nel frattempo però è deceduta. Altre 11 persone sono state denunciate a piede libero, eseguite inoltre decine di perquisizioni tuttora in corso. L'operazione ha visto impegnati oltre 200 militari dell'arma con il supporto di unità navali, aeree e reparti specializzati come lo squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia, nonché unità cinofile per la ricerca di armi. Francesco Domingo aveva ereditato la reggenza della famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo dal 1997 fino al 2004, continuando ad esercitare per alcuni anni il suo potere anche all'interno del carcere. Domingo in passato avrebbe organizzato un summit, poi effettivamente avvenuto, come dicono gli investigatori, tra Gaspera e Spatuzza e la primola rossa, Matteo Messina Denaro. All'epoca entrambi erano latitanti, mentre Messina Denaro lo è tuttora.